Ciao, sono la dottoressa Justin Farina e oggi ti voglio parlare del miglio, un cereale ricco di proteine, vitamine e minerali che possono aiutare a rinforzare e migliorare l'aspetto dei tuoi capelli, ma anche a prevenirne la caduta. Si tratta di un cereale che viene usato soprattutto nell'alimentazione umana e animale in quanto è molto ricco di amido e quindi una buonissima fonte di energia per l'organismo. Il miglio però contiene inoltre numerosi minerali e vitamine, soprattutto del gruppo B, che possono aiutare a mantenere i capelli in salute. Sembra infatti che le sostanze contenute all'interno del miglio possano essere d'aiuto per rinforzare i capelli, ma anche addirittura per prevenirne la caduta. Proprio per questo il miglio rientra nella formulazione di numerosi integratori alimentari, la cui assunzione è consigliata in caso di caduta e diradamento dei capelli, assottigliamento del fusto del capello, ma anche in presenza di doppie punte. Ad esempio, per rinforzare i capelli durante i cambi di stagione o nei periodi particolarmente stressanti, potresti inserire il miglio nella tua alimentazione, consumandolo anche più volte durante la settimana. Infatti con il miglio puoi preparare numerose ricette, quali zuppe, minestroni, minestre, insalate, oppure puoi preparare delle vere e proprie polpette a base di miglio. In alternativa, se non hai voglia di consumarlo come alimento, puoi tranquillamente prendere un integratore a base di miglio, che spesso contiene, oltre al miglio, altre sostanze che potenziano l'effetto proprio benefico del prodotto. Per qualsiasi domanda o dubbio, scrivimi pure e ciao e a presto!